La spada dell'Eterno si abbatté sulla nazione. Leggete quindi in prima Cronache 21-16. Davide, alzati gli occhi e credo fosse l'angelo della morte, sapete, si legge che in Egitto l'ultima piaga quale fu? La peste. L'angelo della morte si aggirò sul territorio con la sua spada. Una volta Ezechia, essendo stato attaccato dagli assiri, pregò che Dio lo liberasse e la peste si abbatté sul campo degli assiri e in un giorno ne morirono 185.000. In un giorno! Più di una volta il popolo di Dio fu salvato grazie a una peste nell'accampamento nemico. Davide, alzati gli occhi, vide l'angelo dell'Eterno che stava fra terra e cielo con in mano una spada sguainata, tesa sopra Gerusalemme. Lo abbiamo appena letto, morirono 70.000 in Israele. Forse la piaga iniziò sulla costa presso il mare, poi risali sulle colline e alla fine arrivò in alto fino a Gerusalemme. E Davide aveva ricevuto notizie che arrivavano al re tramite i messaggeri, che migliaia erano morti, qui migliaia erano morti là. Ora si stava diffondendo in Galilea, ora nel sud, ora è a Dan, ora è a Beersheba. Sante tutti questi messaggi e tutti si stanno vestendo di sacco. Vedono che questa cosa si sta diffondendo. Per tre giorni si diffuse, stava arrivando verso di loro. E dice che Davide e gli anziani, vestiti di sacco, si misero a pregare. Perché pregano? Davide, sapete, aveva lo Spirito Santo. Aveva visto l'angelo del giudizio, la spada sguainata che si aggirava nel territorio, come simbolo della peste che si era presa i leoni, tra i cieli e la terra. E si dice, allora Davide e gli anziani, vestiti di sacco, caddero con la faccia a terra. Quindi, vedete dove siamo oggi? Siete consapevoli di quanto sia grave quello che sta accadendo. Non sono un medico, non sto nemmeno parlando dell'aspetto medico. Non ha precedenti il fatto che ci siano cancellazioni di riunioni pubbliche a livello internazionale, di viaggi, di viaggi di lavoro, di conferenze. Ci saranno sicuramente conseguenze economiche, ovviamente, per tutto questo. Voglio dire, il Presidente l'ha definita emergenza nazionale. I leader dell'OMS hanno detto che abbiamo una pandemia globale. Sapete, spesso si usa la parola pandemia. Nelle notizie si dice di una brutta tempesta che è una tempesta di proporzioni bibliche. Penso che sia la parola più potente biblico. Usano apocalittico per le locuste in Africa. Si usa il linguaggio biblico perché non riescono a trovare un linguaggio più potente. Quando di solito usiamo la parola pandemia, esageriamo. Non stiamo esagerando ora. È quello che è un potenziale disastro economico globale. Non voglio spaventarvi, ma siamo oggettivi un attimo qui. Migliaia di grandi eventi sono stati cancellati. Migliaia di scuole e università sono chiuse. Abbiamo saputo che Nathan non stava tornando a casa in vacanza, ma per rimanerci. E ci sono stati strepiti e pianti a casa mia. Non la mamma, ma il papà pensava che fosse fuori dal nido. Migliaia di società hanno sospeso i viaggi di lavoro. Ci sono state ripercussioni sulla catena di rifornimenti globale, inclusi i dispositivi medici. Penso che sia stata una cosa apocalittica in California quando hanno chiuso Disneyland. Certi prodotti sono stati razziati dagli scaffali. E la gente lotta per la carta igienica. Ho dei suggerimenti per gli azionisti da darvi. Se volete sapere dove investire in questo periodo, trovate chi produce carta igienica. Ho sentito nei notiziari, probabilmente l'avete sentito anche voi, girano in questo periodo che la gente tira fuori il coltello. Sono stato da Walmart ieri. Karen mi ha detto che ha dovuto fare il giro tre volte per trovare posto, una cosa del genere, no? Le ho chiesto se le servisse qualcosa e mi ha detto che non c'erano fazzoletti di carta. Sono andato da Walmart e stavo prendendo del cibo per i colibri. E tutti stavano facendo scorte, voglio dire. Se vengo a casa vostra, vorrei vedere se ci fosse una decima... Per il tipi, una decima, vi prenderete cura del vostro pastore, vero? In questo periodo. Faremo un censimento. No, no, non lo faremo. Scherzi a parte, amici, è una cosa seria. Ma ieri sono stato da Walmart e Karen mi ha detto prendi dei fazzoletti. E lei era nell'altra corsia. E cavolo, la gente stava aprendo le scatole, strappandole. Non permettevano agli addetti di aprirle, li strappavano dagli scatoloni e li tiravano fuori. Mi sono preso i miei, ho dovuto litigare con tre nonne, sapete? Ma alla fine... Ho preso i fazzoletti di carta. È una cosa seria, so che ridete, ma avete visto una cosa del genere prima d'ora? Mi chiedo se Dio non voglia attirare la nostra attenzione. Ci sono conseguenze economiche, ci furono anche al tempo di Davide. Prima cronache 21. Allora, Re Davide, voglio dirvi come si arriva a questo punto. L'eroe della storia, per me, sta entrando in scena. Avete letto di Davide che vede l'angelo tra il cielo e la terra? A Gerusalemme. E ha la spada sguainata. Sono al versetto 16. Di nuovo, in primo cronache 21. Ed evidentemente Gerusalemme era il passo successivo, ma Davide, sapete, chiamava Gerusalemme. Quando Absalom si ribellò, Davide gli disse, dammi la tua parola che non prenderai la città. La chiamavano la città di chi? La città di Davide. Ovviamente era nato a Betlemme, che era un soborgo, ma era la sua città. Davide aveva Gerusalemme. Perché avevano vinto i Jebusei, ma non avevano spazzato via i Jebusei. Quindi Davide vide l'angelo del Signore, che si dirigeva verso Gerusalemme. E Davide disse a Dio, non sono forse stato io a ordinare il censimento del popolo? Sono stato io a peccare e a fare il male. Ma costoro, il gregge, pensa ancora come un pastore. Che cosa hanno fatto? Le persone che sarebbero morte per la pestilenza. Ti prego, Eterno, Dio mio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre. Ma non colpisca il tuo popolo con questa calamità. Forse quando disse la casa di mio padre, magari qualcuno dei suoi fratelli era generale nell'esercito e magari avevano suggerito a Davide, andiamo a conquistare altre terre. Quindi lui e la casa di suo padre si assumevano la responsabilità. Stava offrendo se stesso. Notate che Gesù è il figlio di Davide. Offre se stesso come sostituto per il popolo. Oh Signore, che cosa hanno fatto? Si volga la tua mano contro di me. Sta offrendo la sua vita. È come quando Mosè era sul monte e pregava per Israele dicendo, «Non annientarli, togli il mio nome dal tuo libro». È come quando Paolo dice «Voglio morire io al posto di Israele affinché venga salvato». Questo è lo spirito del cristianesimo. Lo spirito del sacrificio di se stessi. Cosa hanno fatto loro? Si volga la tua mano contro di me. Versetto 18. Allora l'angelo dell'Eterno ordinò a Gad di dire a Davide che Davide salisse a erigere un altare all'Eterno nell'aia di Yornan, il Jebuseo. Così Davide salì secondo la parola che Gad aveva pronunziato nel nome dell'Eterno. Ornan, quindi Ornan, era un uomo onesto che possedeva un grosso appezzamento di terra da quando i Jebusei erano stati conquistati da Davide all'interno dei confini di Gerusalemme, su un alto promontorio. Sapete che Davide si era preso le proprietà di tutti. E qui c'è questo cittadino importante che era un Jebuseo. Sapete, le persone più fedeli in Israele non erano gli israeliti. Uno dei soldati più fedeli di Davide si chiamava Uria, l'Iteo. E se leggete di lui, amava il Signore. Parlava del popolo di Dio, del Signore, il nome del Signore e alcune di queste persone si erano convertite. C'è la donna sunnamita, su al nord, che aveva ospitato il profeta di Dio. Alcuni di loro erano convertiti ed erano molto devoti. E Ornan, evidentemente, lo vedete in seconda a Samuele, si chiama Arauna, ma è la stessa persona, lo stesso nome. Davide va da lui e dice che doveva costruire sull'Aia un altare per il Signore. L'Aia è un posto enorme, piatto dove si trebbiava, si batteva il grano, lo si lanciava in aria con queste falci di legno, si buttava via la parte di scarto, quello pulito si metteva in pila e se ne batteva altro, e si separava, si separava il grano e la pula, che tra l'altro, dal punto di vista biblico, è un segno del giudizio. Quindi sta accadendo nel contesto del giudizio, la separazione del grano e della pula. Vi suona come una parabola? Si dice che Davide salì secondo la parola dell'Eterno. E Ornan si voltò e vide l'angelo. Questo è il mio versetto preferito in tutta la storia, amici. Ornan si voltò e vide l'angelo. Dov'è l'angelo? Tra il cielo e la terra. Cos'ha in mano? La spada. E la spada è ancora fuori. Cosa avreste fatto voi? I suoi quattro figli che erano con lui si nascosero, come avrebbero fatto in tanti. Ma Ornan continuò a battere il grano. Wow! Quando tutti si nascondono, lui continua a battere il grano. Cosa rappresenta il grano, il pane, nella Bibbia? La parola di Dio. È tempo per noi di nascondere la luce dietro un cespuglio? Il tempo delle tenebre è quando la luce è più importante. Ornan continuò a battere il grano. Voglio dire, era talmente in pace con Dio che pensava, beh, sono qui, non posso fare nulla con un angelo. Non posso stare qui fermo, devo battere questo grano. Continuò a fare quello che doveva fedelmente. Ricordo di aver letto anni fa questa storia di un giovane monaco in un monastero da qualche parte in Europa che leggeva tutta la Bibbia. Aveva letto nella Bibbia della venuta di Gesù ed era arrivato alla fine della Bibbia e aveva detto, il Signore viene, viene Gesù. Ed era così felice ed eccitato della venuta di Gesù che andò a parlare al capo del monastero che era fuori nel loro giardino a zappare il terreno. E gli disse, Ho letto nella Bibbia che Gesù verrà di nuovo. Sì, figliolo. E zappava. Ed era preoccupato che il fratello a capo non fosse più eccitato per la cosa. Disse, La Bibbia dice che Gesù verrà presto. Sì, sì, vero. Gli disse, Beh, se Gesù venisse stasera, cosa faresti? Beh, finirei di zappare in pace. Dio vuole che siamo fedeli nel fare le cose giuste, anche cose piccole, e continuare a battere il grano. Indipendentemente da quello che sta accadendo oggi nel mondo, dobbiamo continuare a fare quello che Dio ci ha chiamato a fare. L'ho messo qui nelle note, magari vi interessa. Ornan il Jebuseo, il suo nome, in realtà vuol dire Jehovah e Saldo. E di nuovo è la stessa persona di Arauna. E continuò a battere il grano. Sapete, Dio va alle persone e usa le persone che sono impegnate. Cosa faceva Gedeone quando Dio lo chiamò? Trebbiava il grano. Cosa stava facendo Elia quando Dio lo chiamò? Arando il campo. Cosa stavano facendo Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea quando Gesù li chiamò? Pulendo le reti. Una volta pescavano. Dio vuole che siamo impegnati fedelmente nelle sue opere. non sappiamo l'ora e il giorno della sua venuta, ma dobbiamo rimanere impegnati a fare quello che dobbiamo fare, le opere di Dio. Amen? Disse quindi, guarda, voglio costruire qui un altare sulla tua proprietà. Permettimi di comprartela. Ornan si comportò da principe con Davide e disse, versetto 23, prenditelo. E il re, mio signore, faccia ciò che meglio gli pare. Ecco, io ti do anche i buoi per gli olocausti, gli attrezzi da trebbiare per legna e il grano per l'oblazione di cibo. Ti do tutto. Ecco, qui c'è un uomo generoso, sa fare sacrifici, sa che c'è una peste in tutto il territorio, ha visto un angelo con la spada sguainata e sembra così tranquillo in tutte le cose, sembra così magnanimo, generoso. E Davide disse a Ornan, versetto 24, no, io lo voglio acquistare per l'intero, per l'intero suo valore, perché non prenderò per l'eterno ciò che appartiene a te. E qui c'è un principio che potete sottolineare per tutta la Bibbia. E non offrirò un olocausto che non mi costi nulla. È un sacrificio se vi prendo il portafoglio dalla tasca e lo metto nel piatto delle offerte. È un sacrificio per me. No, il governo lo fa in continuazione, giusto? Prende i nostri soldi e li dà via. E poi parlano di quanto sono buoni. Prendono i nostri soldi. È come Re Saul quando uccise gli ammalichiti e doveva uccidere tutto il popolo, tutto il bestiame. E poi torno indietro con il meglio delle pecore, e del bestiame, e Samuele gli disse non hai fatto secondo la parola di Dio. Oh no, l'ho messa in pratica, ho ucciso tutte le persone, ma abbiamo ottenuto il meglio delle pecore e delle capre per offrirle al Signore. Non voleva offrire le sue, voleva offrire quelle di qualcun altro. Dopo avergliele prese, sapete cosa successe? Samuele disse Dio è più felice dell'obbedienza che del sacrificio. Davide dice se questo sacrificio non mi costa nulla, allora non è un sacrificio. Quindi Davide diede a Ornan 600 sicli d'oro. Sono circa 450.000 dollari in oro della nostra moneta di oggi. Due sicli sono circa, se facciamo i conti, 1500 dollari. Gli diede il peso di 600 sicli d'oro. Notate che Davide paga il prezzo. Davide intercede. E Davide costruì un altare all'Eterno. Offrì olocausti e sacrifici di ringraziamento. E guardate cosa succede. Davide invocò l'Eterno. Intercede per il suo popolo. Prega per il suo greggio. L'Eterno gli rispose con il fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Sapete cosa accadde in quel luogo? Era il luogo in cui Dio aveva detto ad Abramo di portare il figlio sul monte Moria. E Abramo portò Isacco su quella collina. Era il luogo in cui viveva un re di nome Melchizedek. E Abramo gli portava le decime. Questo era il luogo in cui a Davide era accaduto che il fuoco discendesse dal cielo. Più tardi Salomone costruì il tempio. E sapete cosa accadde? Discese dal cielo del fuoco. Da Dio. Quante volte scende il fuoco dal cielo da Dio? Non molto spesso. Ma qui Davide pregò e si dice che dal cielo discese del fuoco su quel luogo. E i figli di Israele si chiedevano per quanto tempo dovremmo portarci in giro questo tempio portatile? Dio aveva detto che avrebbe detto loro quale era il luogo e ora era finalmente il momento in cui aveva detto questo è il luogo. Compralo. Si dice in quel tempo Davide vedendo che l'Eterno lo aveva esaudito nell'Aia di Ornan il Jebuseo vi offrì dei sacrifici. E se passate al capitolo 22 versetto 1 si dice Davide disse questa è la casa dell'Eterno Dio e questo è l'altare degli olocausti per Israele. Perché fino ad allora il tabernacolo portatile era tutto sbrindellato. E sapete sapete una cosa la pestilenza si fermò grazie all'intercessione di Davide a quel punto. Ora voglio amici che notiate una cosa Davide davvero è un modello di Cristo. Lo intercede per il popolo prega per loro paga per questo sostituisce fa da mediatore qui è un modello di Cristo. Ora le piaghe sono cose piuttosto spaventose e la peste è una cosa spettrale si aggira e non la si può vedere. L'ho notato in chiesa ci guardiamo l'un l'altro con sospetto se vi schiarite la gola la gente fa ho un occhio un po' rosso per l'allergia da fieno ho pensato oh cavolo chissà cosa penseranno di me c'era vento ieri no? Penseranno che ho la peste non si può vedere non si può vedere la malattia è una cosa spaventosa ma sono incoraggiato perché quando leggo la Bibbia so che grandi pestilenze precedono grandi liberazioni fu dopo questa pestilenza che fu scelto un posto per il tempio ed era un posto per l'intercessione con Dio lasciate che vi legga un versetto un versetto che conoscete Esodo 12 29 perciò avvenne che a mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti nel paese di Egitto dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del prigioniero che era in carcere e tutti i primogeniti del bestiame così il faraone si alzò di notte lui con tutti i suoi servi e tutti gli egiziani e vi fu un grande grido in Egitto perché non c'era casa dove non vi fosse un morto dopo questa ultima piaga gli israeliti iniziarono il viaggio verso la terra promessa fu dopo quella peste che finalmente gli egiziani pagarono gli israeliti per i loro anni di lavoro fu dopo quella piaga che furono finalmente liberati e non tutti gli egiziani morirono Dio non usò la peste per vedere se riusciva a cancellare gli egiziani li voleva salvare alcuni di loro uscirono dall'Egitto insieme ai figli di Israele e quindi questa piaga solo il tempo ci saprà dire cosa accadrà sapete non sappiamo esattamente quello che è successo in Cina il governo controllava tutte le notizie che uscivano quando è arrivata in Italia e hanno iniziato a mostrare foto degli ospedali travolti nel giro di pochi giorni ecco che abbiamo visto reazioni radicali nei governi nel mondo incluso il nostro finora da quello che capisco i funzionari del governo dicono che probabilmente il 70% della popolazione sarà contagiato gran parte starà bene ma avrà un impatto molto più violento mortale della comune influenza quindi dobbiamo pregare sapete è una grande occasione per noi cristiani ci sono vari modi in cui credo che sia un'occasione per Cristo e per il Vangelo prima di tutto dobbiamo umiliarci e pregare credo anche che dovremmo usare il buonsenso e pratiche igieniche dobbiamo pregare Dio di renderci più coraggiosi per il Vangelo se abbiamo vicini che sono spaventati dobbiamo dire non abbiate paura posso pregare per voi vi sorprenderete di quante persone risponderanno sì per favore dategli della letteratura che bella occasione per condividere le riviste sulla salute ho fatto un programma settimana scorsa con il dottor Nedley e parlavamo del fatto che uno dei migliori metodi di prevenzione per il coronavirus visto che finora non ci sono vaccini è seguire i messaggi sulla salute e aumentare l'immunità e noi lo sappiamo sappiamo cosa dice la Bibbia sul cibo puro e impuro sui rimedi naturali sulla luce del sole sull'aria fresca sull'esercizio fisico sul riposo e tutto il resto ci sono così tante persone malate e aumentano il contagio noi abbiamo risposte che possono aiutare non abbiamo tutte le risposte ma aiutano dovremmo condividere queste cose non dovete aver paura Gesù non vuole che abbiamo paura ora c'è una peste sulla terra c'è una peste nel mondo è una pandemia ma non è il coronavirus si chiama peccato col coronavirus il 2 3 forse 4% morirà è terribile sapete che il peccato ha un tasso di mortalità del 100% e la peste si diffonde nel mondo e richiede anche la quarantena sapete perché non possiamo vedere Dio siamo separati il peccato ci separa da Dio ci dice Isaia il peccato ci separa da Dio ci separa l'un l'altro il peccato ci isola gli uni dagli altri il peccato separa voi da voi stessi non vi piacete neppure a causa del peccato ma una delle cose più drammatiche che mi è capitata nella vita è che i miei genitori mandavano me e mio fratello a un campo estivo ci mandavano sempre non so perché ogni estate ci mandavano al campo estivo e mi piaceva ci mandavano sul Songo al Songo Camp a Mendoza su nel Maine mi ricordo che il Pullman ci veniva a prendere mia madre radunava sempre tutto in un posto il bus ci prendeva in quel posto e ci portava nel Maine e dopo essere salito sul Pullman e aver viaggiato per pochi minuti mi stavo grattando l'animatore mi chiese sei già stato appunto dalle zanzare disse non so ho questi piccoli ponfi mi guardò e mi disse hai la varicella ero sul Pullman pieno di ragazzini tutti in attesa del campo estivo non potevano girare il Pullman mi portarono al campo e mi misero nella piccola infermeria ero in quarantena credo di non averla mai superata ero in questa stanzetta avevo con me il mio porcellino d'India mi ero portato il mio porcellino d'India con me al campo mi permisero di tenere il porcellino d'India perché erano dispiaciuti per me ero in quella stanzetta col mio porcellino d'India mi chiedevo come cavolo avessi potuto prendere la varicella a New York non era possibile a New York fuori dalla finestra vedevo tutti i miei amici che gridavano giocavano si divertivano e io morivo là dentro mi grattavo ovunque fu orribile il peccato separa e il peccato è molto più grave della varicella sapete hanno scoperto che esiste solo un antidoto per il peccato c'è un vaccino stavo leggendo sapete il dottor De Rose un nostro membro ha scritto un libro su come sopravvivere all'Ebola e dal 2015 hanno scoperto che la miglior arma contro l'Ebola è usare il sangue di una persona che è stata contagiata ma non è morta perché ha sviluppato gli anticorpi per il virus che vi aiutano a sopravvivere l'unica persona che è venuta nel nostro mondo e ha vissuto una vita senza peccato è Gesù e l'unico modo in cui possiamo sopravvivere siccome Lui è morto sulla croce ha versato il suo sangue è credere nel suo sangue accettare Cristo ha detto se non mangiate del mio corpo e non bevete del mio sangue sapete di cosa si sta parlando spiritualmente non avrete la vita e dobbiamo questa è un'epoca come mai prima per reclamare il sangue di Cristo per chiedere il perdono e dopo essere andati da Cristo andare a testimoniare per suo conto è questo quello che desiderate? sapete ho pensato fosse appropriato per concludere la nostra funzione faremo un canto di chiusura tra un attimo ma prima di farlo perché non ci inginocchiamo insieme? si dice se il mio popolo si umilerà insieme pregherà insieme cercherà il mio volto si allontanerà dalle vie malvage allora ascolterò dal cielo perdonerò i loro peccati guarirò la terra c'è un momento in cui ne abbiamo più bisogno di ora inginocchiamoci per pregare Padre nei Cieli sappiamo che stiamo vivendo in un periodo senza precedenti la situazione nel mondo è estremamente dinamica e fluida cambia di giorno in giorno vediamo che il cuore delle persone trema di paura sappiamo che ci sono persone che sono colpite e contagiate da tutto questo e sappiamo che avrà un impatto sociale probabilmente perderemo alcune libertà ci sarà un impatto economico ci sarà un impatto fisico ma preghiamo che abbia un impatto positivo dal punto di vista spirituale preghiamo che ognuno di noi Signore prima di tutto nel cuore e nella mente confessi i suoi peccati che tu perdoni le nostre debolezze Signore perdoni il nostro orgoglio e ci aiuti a umiliarci e accettare la salvezza che Gesù ci offre lui è il nostro mediatore tra cielo e terra e prego anche che reclamando il suo sangue sperimentiamo la pace il perdono e poi aiutaci a essere tuoi testimoni sappiamo che se andiamo da Gesù poi possiamo operare per Gesù far brillare la nostra luce e condividere la buona notizia a tante persone intorno a noi che ora sono aperte altrimenti non lo sarebbero forse prego che il Vangelo incendi il mondo e si sparga più velocemente di qualsiasi virus lo stesso sia per lo Spirito Santo ci serve ora ci serve il battesimo dello Spirito Santo l'ultima pioggia dello Spirito Santo e prego che porti un risveglio nella vostra chiesa in modo che possiamo compiere l'opera che Egli ci chiama a compiere grazie Signore per la tua presenza qui oggi per la speranza che abbiamo in Gesù e la pace che ci offre chiediamo tutto questo nel suo nome Amen Grazie a tutti